Perché perdi il controllo con il cibo? Ciao, sono Emanuele Mian, psicologo, psicoterapeuta con un PhD in neuroscienze e oggi ti parlerò di fame nervosa. Nello specifico, perché perdiamo il controllo con il cibo? Durante una delle mie ultime conferenze sulla fame nervosa, una ragazza esasperata da anni di lotte infruttuose contro le buffate mi ha posto questa domanda. Ma perché perdo il controllo? Se il cibo prende gran parte della tua attenzione è perché tu ci pensi troppo spesso. Tutto ciò che per noi è importante diventa ciò a cui più spesso prestiamo attenzione. E tutto ciò a cui prestiamo più spesso attenzione è anche ciò che per noi diventa sempre più importante. Anche se ti sembra di perdere continuamente il controllo, sappi che statisticamente l'individuo medio prende circa 15 decisioni riguardo il cibo al giorno. Ovviamente siamo le decisioni che prendiamo, le scelte che facciamo e quelle che modifichiamo con il tempo. Se quando eri piccola ti premiavano con un dolcetto una pizzetta dopo la scuola oppure dalla nonna, beh, lo hai appreso e portato con te sino all'età adulta. E magari riportare a tavola quegli alimenti ti avrà fatto forse sentire un po' meno la mancanza di qualcuno a te caro o una malinconia più mitigata. Anche alimentarti velocemente lo hai appreso tempo fa. Se alla sera c'erano discussioni animate a tavola fra i tuoi genitori, proprio mentre si cenava, perché era l'unico momento dove si potevano confrontare, quella fretta che anche ora hai quando mangi potrebbe essere dovuta a quell'abitudine che avevi da ragazza. Quell'abitudine di ingurgitare velocemente il cibo per scappare subito in camera tua e non sentirli più discutere. In estrema sintesi, hai imparato a distrarti dalle prime situazioni ed emozioni difficili della tua vita. Ed ora questo comportamento ti è rimasto un po' attaccato addosso. Amico o nemico? Beh, vedere il cibo come unico amico è anche questo un motivo che spinge poi ad esagerare in quantità e anche nella frequenza con il quale ci si alimenta, con il rischio di perdere poi il controllo. Sai, alla fine il cibo non fa domande ed è sempre a tua disposizione. Ma se esageri, c'è anche la food addiction, vale a dire la dipendenza da cibo, che è un po' come essere drogati di cibo. Se ci pensi, nessuno verrebbe mai ad arrestarti se mangi dei dolcetti per strada e nessuno ti entrerà in casa a perquisire il frigo per cercare la tua dose personale di cibi ipercalorici. Anche vedere il cibo come un nemico non ti porterà lontano dalle abbuffate, perché ad ogni ipercontrollo c'è dietro l'angolo un forte discontrollo. Vederlo come un nemico è rappresentato anche dal conteggio ossessivo delle calorie. Quando guidi l'auto, controlli continuamente quanto consuma al litro? Se lo fai mentre guidi, corri il rischio di non sapere davvero dove stai andando. Alla fine, ne vale davvero la pena? Contare le calorie non è ciò che davvero conta nella vita e prima te ne accorgerai e meglio sarà. Dividere quindi cibi in buoni e cattivi ti limiterà e ti farà vedere un nemico dove in realtà non c'è ed un amico dove in realtà c'è solo qualcosa da mangiare. Infine, vedi il cibo come una delle poche trasgressioni che ti sono concesse. Da adulta in questo momento è forse l'unica che potevi avere da piccola. Magari il tuo marito, il tuo compagno, un tuo familiare ti fanno arrabbiare e tu mangi per questo, per trasgredire una regola, magari che ti hanno dato loro e per fargli vedere che tu puoi fare ciò che vuoi. E da piccola, beh, era lo stesso. Mia mamma e mio papà mi dicono che questo non lo posso mangiare e allora glielo faccio vedere io che posso. Un po' come tutti i bambini che disobbediscono per conoscere i veri limiti delle regole che i genitori impongono loro e anche constatare i limiti della loro pazienza. Ovviamente non sono tutti qui i motivi per cui perdi il controllo con il cibo e nei prossimi video ti dirò di più. Abbiamo visto che alcuni comportamenti hanno radici lontane e se non hai colpa per ciò che accade in questo momento con il cibo, beh, hai la responsabilità nel presente di poter cambiare le cose. Anche per oggi mi fermo qui. Mi auguro che questo filmato ti sia stato utile e se hai curiosità o domande a riguardo lasciami un commento. Ti leggerò e risponderò personalmente. A presto, dai mani mi hanno!